L'ufficio in relazioni con il pubblico è uno sportello sempre più al servizio dei cittadini. La rilevazione dei contatti evidenzia come al primo semestre 2014 siano stati 5.879 gli utenti che hanno contattato l'ufficio per richiedere informazioni su varie attività, servizi o iniziative dell'ente. Nel primo semestre 2013 gli utenti erano stati 5.292 e quindi si registra un aumento dell'11%.